a partire da quello c'è 35 e pure la terza guerra si fanno pure la terza guerra va a dire ma da qua la terza e vedi le canonate mi hanno portato fino a strombe che meraviglia che figuri le tedesche complimenti e ho fatto un lavoro sul montaggio di 6 retentore ci siamo stati un altro giorno ma non ti hanno spiegato che l'abbiamo fatto un lavoro di stato ho letto qualcosa che è stato fatto dai cittadini di Maranola e io sono stato quello che ho lavorato ho letto che il fulmine ha tagliato la testa al retentore la testa è venuta molto prima ma non ci ha visto tutto il giornale questa è venuta molto prima nel 19 nel 19 nel 19 è venuta molto prima la testa del retentore che è caduta giù poi è stata trasportata da capo si si ma io sto parlando adesso quel lavoro l'abbiamo fatto in 1943 con la guerra in piena con i tedeschi e portato la persona a evaporare gli tedeschi quindi abbiamo abbiamo anche un protagonista di quello che è aveva ancora 16 anni non l'avete a guerra l'avete a guerra l'avete a guerra l'avete a guerra è vista è vista è appunto di 4 anni è andata per questo fatto ormai questo resta come si dice nella storia mondiale è nella storia che non finisce più quindi dove si trova esattamente? allora si trova si guardate mi sta sotto le spalle verso il mare e guardate e guardate e guardate verso la destra e la destra e la destra e la destra e la parte del dell'ambito che abbiamo noi che ci ha aiutato e noi lo siamo scendicoli ma le domande le domande le domande le domande che hanno legge e poi le domande ho detto pure andate a venire là è una cosa che esisterà nei secoli è una cosa che esiste perché i tedeschi volevano sbagliare da quella buca spondarla alla domanda per avere una posizione per avere una posizione quando vede arrivavano e si abbattivano sicuri doveva essere una postazione aerea grazie per questa bellissima testimonianza che abbiamo fatto qua asseduti per terra e tirarono quello per bracciare e buttarono così eravamo in tre in tre eravamo poi le altre due sono morti tutti tutti e ci ha venuto la mia buca e ci sono rimasto solamente io e per aggiunta ma erano solo il secondo ci spiego che ha quattro mesi più o meno e ci hanno circa 96 finito e io fra poco finisco 90 complimenti e fra poco festeggiamo 100 complimenti veramente no ma queste sono testimonianze di vita che le devono ascoltare i giovani che oggigiorno ormai stanno proprio completamente fuori invece i sacrifici che avete fatto sono un quaderno per lasciare bella ai miei figli e ci devono fare un libro tutto assoluto poi se la vedono ora a fare queste cose e beh certo il quaderno ce lo lascio perché è tutto di tutte le vendite perché non sono stato solo là mi hanno portato sempre a diverse parti fino a fronte pensi quando è fronte c'è di casino sabbapismo noi andavamo a lavorare sotto proprio dove stavano gli altri tra americani e tedeschi dovevamo riparare le strade le cannonade facevano delle bughe e il carattere doveva poter vivere a fronte e non potevano passare per le bughe e noi con una tanta pacienza in attenzione citti citti non si parlava dovevamo abbia una pietra così e la strada fino a che portavamo il piano regolare quando alla notte verso la mezzanotte arrivava su un carrettino che portava i piperi con i cavalli i cavalli portavano i tamponi di gomma sotto i piedi e il carrettino aveva tutte le ruote in gomma passava era come uno con un scio di vento che stava arrivando e andava a portare il bello franzo e i tedeschi che stavano pronto con la portazione che meraviglia e invece di questa guerra che ne pensa? di questa guerra mi ha fatto veramente tutti i sacrifici che ho fatto qui è vero è vero però di questo poveraccio ci sono cascati pure così per quel colaccio non so che testa ci ha però ha fatto calcoli sbagliati perché forse lui non voleva perché non voleva questa strada cioè lui voleva prendere l'Ucraina con due tre giorni è come andava e invece è venuto fatto meno non ha pensato che quello è attaccato con l'Europa e quindi avrebbe dovuto dei cugini a questo punto io penso che per lui ci è rimasto male ci è rimasto male e per me ha sbagliatissimo e mi ha fatto ricordare tutta la penitenza con i scappoli e danno l'aiuto pure agli altri noi siamo andati in montagna e non abbiamo avuto una spilla da nessuno sai che vuol dire se ci aveva qualcosa mangiato se no ci eravamo la cinta buon proseguimento e grazie per queste belle buon anno qui bello